Noi invece riteniamo che sia più utile, ed è questa la proposta che verrà dalla maggioranza, di celebrare un Consiglio Comunale, perché questo ci chiede la Corte dei Conti e non altro, di celebrare un Consiglio Comunale nel corso del quale raccontare tutto quello che è successo, dimostrare documenti alla mano qual è la situazione e quindi proporre insieme al Consiglio Comunale le soluzioni che servono per rimettere in ordine i conti del Comune, che sono in questa condizione a causa di decenni di non buona gestione, ma anche a causa di fattori non dipendenti dalla volontà di chi ha amministrato o imposto in qualche modo ai dirigenti un cambio di passo e soprattutto un'assunzione di responsabilità che li veda innanzitutto loro protagonisti di questa nuova fase. Io voglio dare risposte alla Corte dei Conti, le devo dare alla Corte dei Conti, ma le risposte le devo dare innanzitutto ai miei cittadini, che sono quelli che mi hanno scelto come sindaco. E quindi siccome questa è la mia priorità, io innanzitutto metterò tutto a posto e poi renderò conto anche alla Corte dei Conti di quello che stiamo facendo e di quello che faremo.